Buongiorno a tutti i ragazzi, con il numero 3, Domenico Camazzini. Buongiorno a tutti i ragazzi, con il numero 3, Domenico Camazzini. Buongiorno a tutti i ragazzi, con il numero 3, Domenico Camazzini. Buongiorno a tutti i ragazzi, con il numero 3, Domenico Camazzini. Buongiorno a tutti i ragazzi, con il numero 3, Domenico Camazzini. Buongiorno a tutti i ragazzi. Buongiorno a tutti i ragazzi, con il numero 3, Domenico Camazzini. Buongiorno a tutti i ragazzi, con il numero 3, Domenico Camazzini. Buongiorno a tutti i ragazzi, con il numero 3, Domenico Camazzini. Buongiorno a tutti i ragazzi, con il numero 3, Domenico Camazzini. Buongiorno a tutti i ragazzi, con il numero 3, Domenico Camazzini. Buongiorno a tutti i ragazzi. Buongiorno a tutti i ragazzi, con il numero 3, Domenico Camazzini. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.